salve a tutti ragazzi sono mattex benvenuti in questo nuovo episodio della carina natore con il pisa qui sui a23 apriamo l'episodio quest'oggi con evo selle che passa da ad ad esterno destro fa un più due comunque positivo io lavorerei sul piede debole visto che un esterno per me molto importante che che abbia entrambi i piedi più o meno girati bene vado sempre su modifica tecnico ormai l'abitudine l'abitudine quella è andiamo nel calendario le partite che vedremo oggi saranno sicuramente cittadella modena e parma valutiamo poi se fare anche la quarta con la spalla a seconda un po di come andranno queste tre partite nel senso c'erano tante occasioni se dovessero finire con risultati molto larghi vediamo vediamo intanto ho modificato leggermente le slide rispetto alla scorsa volta spero che possano funzionare visto che per il campionato sono state tutte un po così così attualmente noi siamo con sei punti tre partite giocate due vittorie ed una sconfitta quattro gol fatti due subiti siamo una squadra abbastanza equilibrata in realtà vogliamo cercare però di fare qualcosina in più speriamo di poterlo fare contro il cittadella quindi prepara la formazione e poi scendiamo in campo il cittadella scende in campo con maniero tra i pali donna roma del fabbro frare e mattioli quattro di difesa carriero branca vita i tre centrocampisti danno poi forza sulla tre quarti con lores tuncara e baldini davanti ecco qui gemello tra i pali del pisa che mi qui ha fatto molto bene tripi e steves barba e iureskin bolocca tourè a centrocampo tramoni morutane debossele la linea tre formata dietro all'unica punta che questo oggi è torregrossa manca solo più il fischio iniziale dell'arbitro comincia cittadella contro pisa buona partita tramoni prova a saltare mattioli va da solo tramoni il cross al centro verso torregrossa si allunga il pallone poi lo alza per morutane maniero la prima occasione di questa partita al centro c'è tourè l'ha visto c'è anche torregrossa la palla è su tourè di testa maniero mattioli palla corta per baldini gemello prima chance per il cittadella minuto 28 e il capitano si appresta a battere il calcio d'angolo carriero tuncara calcia fuori ultima chance del primo tempo finisce qui 0 a 0 tra cittadella e pisa e bossele al centro torregrossa e bossele l'ha visto tacco per morutana spazio morutana centrale però per maniero tuncara balla al centro per baldini baldini da solo baldini batte gemello 1 a 0 per il cittadella saluta una grande occasione un gran varco difensivo la squadra di casa baldini porta in avanti i suoi possa rendersi utile qui tuncara si gira molto bene in un fazzoletto calcia fuori e bossele in profondità verso de angelis che prova a scattare saltare l'uomo de angelis deve saltarlo di nuovo de angelis prova maniero tiro centrale calcio d'angolo civilli probabilmente per l'ultima azione del match prova un cross morbido verso de angelis stop destro poi ancora i bossele il pallone era lì per lui ma non riesce ad intervenire c'è maniero finisce qui cittadella 1 pisa 0 non inizia benissimo questo episodio per i ragazzi di mr mattox si torna a casa con 0 punti e qualcosa da rivedere con un pisa un po in difficoltà andiamo ad affrontare il modena a 4 a 8 punti al momento il modena di the king il modena che attualmente è terza in classifica quindi bisogna fare sicuramente attenzione non ha ancora perso noi invece di sconfitte ne abbiamo già subite due due vittorie due sconfitte dobbiamo fare qualcosina in più modifichiamo sicuramente la formazione rispetto alla gara contro il cittadella contro il cittadella ho provato a fare un pochino più di turnover che però non ha funzionato benissimo quindi proviamo di nuovo a cambiare qualcosina per provare a cercare di nuovo i tre punti che sarebbero fondamentali per noi gemello tra i palli confermato del pisa caracciolo tripi calabresi beruato in difesa balocca ionita i due al centro di questo 4-2-3-1 del pisa volpato tramoni tramoni de angelis seculin in porta per il modena difesa 4 anche loro con renzetti silvestri piacentini e coppolaro gerli gargiulo e battistella in centrocampo con tremolada sulla tre quarti dio e marsura le due punte per il modena modena che ha otto punti in classifica vuole mantenere questo trend positivo il pisa deve tornare a far punti deve tornare a vincere deve tornare a far bene comincia pisa contro modena buona partita gerli dio che gol del modena si apre così il match 1-0 per gli ospiti gran gol di dio junita visto de angelis nello spazio forse non è fuorigioco de angelis de angelis seculin c'è la prima occasione del pisa tramoni de angelis visto volpato dall'altra parte volpato servito stop sinistro il numero 11 pareggi i conti al 21esimo 1-1 gran gol di volpato servito da un tocco sotto di de angelis coppolaro dio gemello beruato alla corta volpato tramoni ancora destro chiuso troppo il tiro volutan si se servito volpato può andare al centro su de angelis si gira de angelis destro un gol fondamentale un gol importantissimo quello di de angelis 2-1 pisa in vantaggio dio forse ultima azione della partita attenzione al modena al mai il tempo è scaduto l'apidro continuo a far giocare c'è calaccelo su di lui lo chiude bene finisce qui pisa 2 modena 1 il cambio modulo più innesto di alcune forze offensive ha dato modo al pisa di portare a casa tre punti una vittoria che serviva tantissimo in un periodo difficile due sconfitte in campionato una col como una col cittadella hanno fatto un po dubitare della forza di questo pisa ci pensano volpato e de angelis l'uno per l'altro e tre punti per il pisa e mister volevo ringraziare avermi dato l'opportunità di scendere in campo mi sento pronto per il detente titolare fisso spero ci sarà più spazio per me nelle prossime partite partite eccezionale ma vediamo nel senso continua continua ad allenarti volpato primo gol stagionale per lui anche un assist molto importante perché quello per per de angelis è stato un passaggio vitale vitale ci servivano tre punti come come il pane come l'acqua quando piove poco quest'oggi in campo parma e pisa parma una vecchia carriera di mister mattex andrei a fare la conferenza stampa per partita bene possiamo iniziare chi vuole fare la prima domanda bene bene de angelis ha dimostrato di essere in forma ultimamente giocherà giocherà perché non c'è giocherà cambio di tattica oggi voglio provare una formazione diversa ogni partita fa storia a sé bisogna inventarsi qualcosa di nuovo per sorprendere gli avversari alla luce del successo di misura della squadra modena qual è l'umore generale tra i giocatori in vista del match contro il parma non ci lasceremo condizionare la squadra pisa affronta tutte le partite con la massima professionalità e il rispetto i giocatori lo sanno bene non si lasceranno condizionare dell'ultima vittoria di misura ora che il mercato è chiuso possiamo chiederle se la rosa a sua disposizione la soddisfa abbiamo preso i giocatori che ci servivano c'è bisogno di una rosa ampia per arrivare in fondo tutte le competizioni crediamo di aver preso i giocatori che ci serviranno bene bene grazie chiudere qui con le domande partita importantissima quest'oggi a legno terdini per la serie b giocano in casa parma con buffon tra i pali difesa a 4 con osorio kobo del prato e ansaldi e steves bernabè giocatori molto molto interessanti vasquez man e miaila con bob inglish roberto inglese davanti una squadra che ben conosciamo gemello tra i pali barba tripi e steves yureskin in difesa per il pisa bolocca noji che ritorna nel reni di questo centrocampo morutan e bossele e sibilli de angelis unica punta fin qui miglior marcatore della pisa 3 gol per lui in questo inizio di campionato proviamo a cercare altri punti oggi sarà una partita molto molto difficile contro un gran parma barba chiama il pallone morutan è servito accontentato morutan sguardo al centro c'è sibilli c'è de angelis stacca di testa ma trova il palo vasquez denisman lo aspetta tripi denisman per vasquez la palla resta lì due volte vasquez nessuno più su di lui parma in vantaggio si conferma uno dei migliori giocatori di questo parma e soprattutto di questo campionato 5 gol per lui de angelis può scaricare su e bossele parla per lui e bossele destro centrale però yureskin sibilli in qualche modo morutan bolocca e bossele c'è de angelis al centro e bossele l'ha visto de angelis palla deviata osorio ancora lì bolocca di testa sibilli destro di sibilli buffon poi de angelis ancora buffon sibilli scatta sibilli e può andare poi passaggio corto verso de angelis tacco morutan lo spazio è tutto suo morutan 1-1 grande azione fase offensiva del pisa prima con sibilli poi con de angelis tocco morbido per morutan attenzione qui allo scatto di denisman denisman da solo poi torna indietro vasquez vasquez una bomba col destro di vasquez il numero 10 incanta il tardini 2-1 parma non sono tanti minuti a disposizione della pisa e bossele lancia esteves la palla per lui è buona esteves va esteves corre al centro pochi uomini torregrossa de angelis troppo 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 a servirlo rigore calcio di rigore non era fuori gioco molto urbanemente esce male buffon su de angelis lo tira giù calcio di rigore prova de angelis 2-2 il pareggio all'ultimo quasi insperato del miglior marcatore del pisa fin qui a vasquez risponde de angelis la sfida aperta in questo campionato per oggi probabilmente finirà 2-2 3p corto finisce qui 2-2 tra parma e pisa un pareggio molto molto importante arrivato dopo una partita molto molto difficile una squadra forte come il parma esteves quest'oggi che lanciato ha servito torregrossa poi torregrossa palla per de angelis ci ha messo forse troppo a servirlo ma quel troppo è stato il giusto per far scattare buffon in uscita tirare giù de angelis calcio di rigore la piazza lo stesso de angelis 2-2 sto attraversando un buon periodo di forma ultimamente mi sento molto bene quindi spero che non mi mandare in panchina contro la squadra spalla vediamo ci pensiamo ci pensiamo ci pensiamo poi abbiamo offerta per allenare l'irlanda del nord che rifiutiamo e l'aggiornamento dell'osservatore l'aggiornamento mensile vedo Elias Romero non mi intriga c'è questo Mario Lombardi che però può avere un totale abbastanza alto lo d'altro 775.000 di valore quindi lo ingaggerei ingaggiamo anche questo Alberto Mancini bel lavoro con il nostro proposto proposto col nostro obiettivo giovanile crescita giovani ingaggia 4 giocatori nei diversi ruoli ben fatto molto bene per chi sta guardando questo episodio su youtube non avrà visto quello che c'è stato in mezzo ossia il crash totale della mia playstation ma a parte questo andiamo ad affrontare la prossima partita siamo contro la SPAL che attualmente è tredicesimo in classifica con 8 punti noi ne abbiamo 10 siamo diciamo a un relativo buon punto nel senso comunque abbiamo pareggiato con con il Parma ci siamo rifatti poi con con il Modena bisogna fare attenzione perché si rischia di far male un po' in tutte le partite non c'è praticamente più nulla di sicuro quindi proviamo i titolari quelli più forti quelli che stanno facendo meglio compreso ovviamente De Angelis che sta che sta segnando bene tra l'altro come avete visto non sta facendo triplet su triplet ma appunto 1-2 gol ogni tanto e alla fine un po' si sta trovando nel nel modulo speriamo di riuscire a far meglio perché ci manca sempre quel qualcosina in più quindi proviamo a portare a casa un'altra vittoria scendono in campo gemello tra i palli del Pisa Beruato Barba Trippi e De Esteves in difesa ormai praticamente quella titolare con Noji Boloca a centrocampo Tramoni Morutan ed Ebosele i tre che fanno da spalla a De Angelis unica punta fin qui il miglior marcatore del Pisa un Pisa che sta facendo bene che sta trovando punti ma delle volte fa fatica a trovare il modo giusto di andare in rete Tiam in porta per la spalla Trippi Aldelli Varnier Dallemura e Dickman in difesa maestro Balzania ed Esposito con Proia sulla tre quarti e due d'attacco formato da Moncini e Lamantia questa è la spalla questo è il Pisa stadio Romeo Anconetani comincia una nuova sfida di Serie B Tramoni 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 ci pensa destro di Tramoni Tiam deve girarsi Morutan prova un mancino a giro chiuso poi Beruatto cross al centro verso Boloca Tiam in calcio d'angolo Tripaldelli corto Moncini Lamantia gemello Morutan Tramoni saltalo vai Tramoni vai Tramoni salta non me va da solo Tramoni contro Tiam Tramoni 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 destro un missile di Tramoni in ripartenza un gol pazzesco del Pisa 1-0 vantaggio per i padroni di casa Dickman Dickman sguardo al centro c'è Barba Lamantia sul primo palo gemello salva 1-0 1-0 del Pisa Beruatto spinge il Pisa Morutan De Angelis chiuso poi ancora il suo mancino questa volta c'è prima Ebo Sele aveva messo un pallone forse troppo indietro per lui qui si conquista il pallone trova il gol 2-0 Morutan intercetta vai Morutan da solo Morutan può andare Morutan contro Tiam Morutan Tiam poi De Angelis 3-0 a porta vuota fa suo il secondo gol personale e il terzo del Pisa facile facile il tap in vincente la spalla crollata ancora Tramoni cross al centro verso Ebo Sele colpo di testa vincente Tiam non riesce a tenere il pallone 4-0 del Pisa incredibile oggi la squadra nera azzurra vai Ebo Sele vai Ebo Sele da solo contro tutti Ebo Sele prova a saltare anche un altro Ebo Sele Mancino Tiam in calcio d'angolo tira un po' morbido Ebo Sele volpato torregrossa lancia Esteves che poi ha visto Ebo Sele parla ottima per lui Ebo Sele per chiudere Ebo Sele Ebo Sele alto sulla traversa bravo Ture operarsi un ottimo pallone Sibili può andare dal solo perché tra l'altro è veloce è fresco e dalle murano Sibili al centro torregrossa Tiam che parata finisce qui Pisa 4 Spal 0 la prestazione che ci voleva insomma la prestazione che voleva Mr. Mattox dopo un episodio un po' così così tra pareggio e sconfitte e poi una buona vittoria contro il Modena serviva la prestazione di carattere e quella qui 16 tiri contro 3 4 a 0 Pisa Spal bene bene così siamo dunque arrivati alla fine di questo episodio con la classifica che ci vede attualmente al terzo posto siamo lì siamo lì a un punto da Genoa ed Ascoli che sta facendo molto molto bene assieme al Genoa poi sotto abbiamo Brescia e Benevento sempre a 13 punti a 12 Parma e Frosinone a 11 il Venezia a 10 Modena Palermo e Terrana siamo praticamente tutte lì la classifica ancora abbastanza corta nel prossimo episodio vedremo probabilmente 4 partite di nuovo avremo su Tirol Genoa Bari e Ascoli quindi due scontri incredibilmente diretti il prossimo episodio con il su Tirol potremo eventualmente valutare di giocarci momenti clou vediamo vediamo fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio mi raccomando supportate la Massimo per avere un altro episodio poi direttamente sabato mi piace al video iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto in descrizione trovate il mio canale il gruppo telegram dove condividere le vostre carriere parlare assieme alla community restate ragionati su ciò che succede riguardo al canale e instagram per rimanere ragionati sulle live e tutto quanto un bacione un salutone noi ci vediamo la prossima sempre qui sul mio canale ciao ragazzi grazie a tutti 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 grazie a tutti